Mancio Noi dobbiamo guardare noi Abbiamo giocato bene oggi Dobbiamo cercare di giocare come abbiamo giocato oggi Poi vediamo, poi pensiamo alle altre Intanto pensiamo a noi stessi Giochiamo così e poi pensiamo agli altri Che squadra avremo a Cremona a livello di unità? Cambierà qualcuno? Non lo so Ogni giorno cambia, non sappiamo più chi ci abbiamo in campo Possiamo arrivare anche in 80 Americani 80 Bianchi, si interessa Vorranno vincere, come? Arriba di uno Siamo d'accordo con Mancio, dobbiamo vincere Ciao, ciao Mancio